L'obiettivo principale è farli tutti fuori C'è un altro dentro? Un altro dentro, a destra Non finirà Non lo so, ma non ho scelato Ecco qua C'è un altro dentro Ah, i soldi, i soldi dentro Sì Vai dietro Ti finiscono lì Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo Nemici qui vini L'ho sottito, l'ho sottito Titto, titto, titto Cazzo Luce spente Ci sono, ci sono A una a una dobbiamo prenderci le armi Grazie Grazie Sparano d'altà Vengo io Vengo io Vieni te le do Vieni te le do Vieni te le do Ci sono Ci sono Ci sono Ci sono Tarrazzo Tarrazzo Garietta, non la fada Così vieni la gente è entrato un altro big bookie big bookie mamma falli venire non fate vedere dalle finestre eccolo vabbè sta morto vabbè 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 altro granata partita uno giù Vieni giù! Vieni giù! Vieni giù! Ostile in discesa nell'area! Occhio in alto! Bello! Aveva! Arrivano! Non scendete! Vieni a qua! Non ce li fanno! Enzo! 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 una terra mamma non dovete spostarvi ma non riesco a venire guarda che bordello che c'è non ti farò vedere 3 metri più oh è entrato un altro è entrato non ci spente no ragazzi ho lasciato non ci sono una vole di attività non resiste resiste un tratto un tratto pazza è forte questo è quello che c'è a me sopra 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 una terra uno all'oscura adesso una terra di nuovo un'altra terra no e' un'altra terra uno all'altra nooo stavamo a fare una strage raga guarda quanto è un'altra terra di nuovo io direi dovrei andare a cuore come stavo a cuore al nostro lancio c'è un'altra terra di nuovo aspettando sto aspettando fa bene andiamo a prenderci il nostro lancio ce ne andiamo ormai vedremo guarda non ce l'ho non è morito nooo ma da che sei sceso c'è un bel appio a rilagione tutto andava ma avevo detto messa non è stato detto detto abbiamo perso il bersaglio c'è gente c'è gente graffino c'è gente graffino terra c'è una stazione medica terra c'è una nientata gas in arrivo alla nuova zona sicura c'è una nuova zona c'è una nuova zona c'è una nuova zona c'è una nuova zona ma perchè non viene con noi? non ho capito stavo secondo me il coniglio stavo secondo me il coniglio stanno perso tutti ma non ho piastro andando a prendere in cazzo oh stiamo nella casa stiamo nella casa da sotto luci spente bel lavoro dai bello l'occhio basta stai in mano però quando diciamo avanciamo bene con un interessante noi non è mai da su ma è mai da su non si è fermo stiamo in sottozione stiamo in in sottozione stiamo in sé con una uova stai in sottozione è un botto di via